Siamo con il primo, il secondo e il terzo di questa quarta gara ciclistica al circuito Wisp. Mirko Balducci si è confermato campione anche stavolta. Insomma, ve lo aspettavate? Come è andata? Ma sì, sicuramente oggi è la quarta tappa qui in Maremma, quindi ormai sono quattro domeniche che ci confrontiamo. Il percorso è veramente bello, organizzato nel migliore dei modi da ragazzi del free bike. È veramente tecnico, io oggi ero più riposato rispetto alle altre domeniche, quindi in queste discese, questi tipi di percorso sono veramente adatti a me. Dopo una prima parte di gara con Federico, che sta andando comunque molto forte, ho allungato il tratto di discesa, ho fatto l'altra metà parte da solo. La terza vittoria qui in Maremma, quindi sono più che contento. Federico, sei arrivato al secondo appunto, quando ti è sfuggito Mirko? Eh, nel secondo giro e nel single track in discesa, c'è una marcia in più sinceramente, ce l'ha ovunque, però in discesa ancora c'è un gap da colmare tecnicamente. E poi dopo comunque si è mantenuto e va bene comunque la condizione, è sempre un ottimo risultato secondo il Totomirco. Invece tu sei arrivato terzo, sei anche il più giovane. Sì, sono il più giovane, ho patito un pochino l'affaticamento di questa settimana di allenamenti nella prima parte di gara, poi sono riuscito a fare una bella rimonta. Percorso veramente curato nei minimi dettagli e complimenti all'organizzatore. Chilometri? Circa 30 più o meno, mi sembra. Percorso molto tecnico? Sì, percorso veramente da cross country, salite non troppo lunghe, le discese tutte in single track da guidare, veramente piacevole e divertente penso per tutti i partecipanti. Poi la giornata di sole qui a Follonica, veramente una giornata di festa tutti insieme, quindi bene così e in bocca al lupo a tutti. Prossime gare? La prossima fra due domeniche a Orbetello, quindi si torna un po' in terra argentarina e ci si risfiderà di nuovo. In bocca al lupo a tutti. Grazie. Giancarlo Donati, il presidente del Free Bikers Follonichese, organizzatore della competizione appunto della città del Golfo, oggi campione, si è confermato Mirko Balducci, circa 80 ai partenti, ho capito bene, 81. E' stato un piacere, siamo stati fortunati avere una giornata meravigliosa, gli altri giorni sono stati terribili, il presidente della gara, abbiamo dovuto togliere le pozze, insomma ci piace che il percorso sia venuto abbastanza duro e comunque percorribile senza troppi problemi. La vostra associazione tra l'altro organizza diverse gare proprio nel territorio, questa credo che sia la prima del 2018. Sì, è la prima dell'anno e poi il momento clou sarà il Maremma Bike Trophy che è giunta alla trentesima edizione, quindi faremo grandi cose. Poi abbiamo la città turistica alla Gran Fondo della Maremma e nostra intenzione a maggio fare anche una corsa per la specialissima, giusta corsa nel territorio per ricordare alcuni corridori ciclisti follonichesi scomparsi da poco. Ecco, questo ci fa piacere, ci mettiamo tutto l'impegno.